Tengo a precisare che sono stata maltrattata, sputata addosso, in faccia ovunque. Mi hanno chiesto se io facevo rapporti anali addirittura e come facevo. Quindi non mi hanno fatto mangiare, bere niente. Mi hanno fatto stare seduta su una panchina e così ho trascorso tutte le 17 ore bloccata lì. In pratica sono arrivata nell'aeroporto di Sharmesheik facendo il visto perché bisogna fare una tessera egiziana lì. Dal visto mi hanno bloccata dicendomi che non potevo uscire fuori dall'aeroporto, non potevo raggiungere il resort perché ero una transessuale. Quindi essendo una transessuale lì non subverenta la legge ma bensì la religione. Quindi mi hanno tenuta bloccata in aeroporto per circa 17-18 ore. Sono ripartite il giorno seguente alle 17. Tra l'altro tengo a precisare che sono stata maltrattata, sputata addosso, in faccia ovunque. Mi hanno chiesto se io facevo rapporti anali addirittura e come facevo. Quindi non mi hanno fatto mangiare, bere, niente. Mi hanno fatto stare seduta su una panchina e così ho trascorso tutte le 17 ore bloccata lì. Tu eri da sola? No, ero in compagnia con altri cinque amici, tra cui una mia amica mi ha seguita. non voleva che stessi da sola lì e se n'è venuta come in Italia, a spese nostre ovviamente. Avevi avuto qualcuno che nessuno ti aveva segnalato che in Egitto per esempio si verificavano questi casi? Mai, mai nessuno. Anche perché comunque altre amiche mie sono partite, sono state in Egitto e stanno ancora lì a Sharmeshek a farsi le vacanze e non possono crederci a quello che a me è successo. Ragazze transessuali, con lo stesso documento mio, cioè nel senso foto da donna, ma nome e cognome maschile. Pensavo che in Italia non sarei ritornata più per quello che si sente, per quello che fanno. Sono successi parecchi casi che comunque parecchie persone non sono tornate più in Italia, quindi la mia paura era quella. Mi dicevano che non potevo avvisare, non potevo chiamare. Fortunatamente incontrai un ragazzo che si stava imbarcando, che aveva finito le vacanze e stava tornando a casa in Germania e mi vide disperata e disse non ce la faccio a vederti così, ecco il telefono, fai la chiamata che devi fare, fai presto perché io devo tornare che ho l'aereo pronto che sta per partire. Dobbiamo combattere per i nostri diritti perché alla fine siamo persone normali come tutte, quindi alla fine abbiamo cambiato il guscio, non abbiamo cambiato né cuore né anima né sentimenti. Quindi dobbiamo combattere, dobbiamo insistere e pretendere anche noi i nostri diritti.